Crisi economica e benessere Italia 1929-2016. Ne parliamo con Giovanni Vecchi, professore di economia all'Università degli Studi Tor Vergata. Sì, buongiorno. Oggi parliamo delle differenze economiche che sono state sulla condizione di vita della popolazione all'indomani delle due grandi crisi, quella del 29, la grande depressione e quella iniziata nel 2007, che è la grande recessione. Cercheremo di capire le differenze e le similarità, soprattutto sul benessere e le condizioni di vita delle persone. Il comune denominatore è quello che il prezzo più alto a queste crisi viene pagato dai segmenti meno abbienti della popolazione. Questo nonostante un welfare state che è certamente efficace ma non sufficiente per impedire questa maggiore onere a carico delle parti meno abbienti.